Climaticamente intelligenti. Comprendere il nostro mondo. In particolare durante la prima volta 2.5 milioni di anni, abbiamo avuto un ruolo di sviluppo di sviluppo di sviluppo, di sviluppo e di sviluppo. Nelche si semplici nella stessa secola stagione di sviluppo. Il problema è che, ad esempio, di solito interferenza di sviluppo, che il sviluppo è molto più veloce più forte, che ci sono mai più amici. E' quello che chiamo di sviluppo di sviluppo di sviluppo. Cosa è la causa? Beh, è l'outputazione di gassi di produttori di produttori, di produttori, di produttori. Quando continui a rinforzare l'atmosfera con gassi di gassi di produttori, la planet ha bisogno di più calma e più calma, e questo è proprio quello che sta succedendo ora. Il primo effetto è chiaro che la temperatura di superficie del planeto è rinforzare, ma uno dei fondamenti fondamentali è che il calma dell'atmosfera è anche il calma dell'atmosfera di calma dell'atmosfera. Se si calma l'acqua, si calma l'acqua, quindi questa piccola l'acqua può solo aggiungere un metri o meno. Ma se vivi da l'acqua, e se avessere un'atmosfera soare per un metri o meno, può essere molto vero. E poi, ovviamente, ci si avessere qualcosa che avviene tutti, questo è un cambiamento in livello di livello. Se guardate le statistiche dell'atmosfera, che si avessere un'atmosfera, ci vedete che ciò che questo effetto di livello causano enormi dei mali. Ciò c'è una grande, grande, che ciò che avviene a tutti, è la sicurezza di salute. Al final del settore, quando la mia planetta potrebbe hostilare magari 10 o 12 milioni di persone, bisogna produrare molto più alimenti. In fine abbiamo una scuola, e non è la tecnologia che ci amperà in qualche modo, è di noi. Abbiamo bisogno di cambiare l'energia, come si possibile, da fossili fiori, gas, oil, coal in particolare, a non-carbon sources, come si chiamate, che si chiamate, solare, biomasse. Anche con l'existente tecnologie, possiamo rapidamente decarbonizzare Europa, diventare un mondo leader quando si tratta di riduce greenhouse emissioni. È la propria politica, in fine, perché, in fine, è una competizione tra un nuovo sistema economico, che è basato a fossili fiori, e un nuovo sistema, che è molto più sostenibile, che non ha alcuni effetti ambientali, probabilmente, creare anche più di lavoro, in fine, e farà innovazione a tutte le scelte. 200 nazioni su questo planeto, che hanno bisogno di lavorare insieme. È un risultato non precedente nella storia humana. Climaticamente intelligenti. Comprendere il nostro mondo. il mondo. Grazie a tutti